Ciao a tutti amanti delle avventure. Benvenuti nel nostro canale, dove oggi ci immergeremo nei tesori nascosti della meravigliosa Sicilia. Questa splendida regione italiana, con la sua eredità millenaria e la varietà di tradizioni culinarie, è una perla nel cuore del Mediterraneo. Ma prima di iniziare questo avvincente tour, assicuratevi di iscrivervi al canale e condividere le vostre storie e consigli sulla Sicilia nei commenti. Siete pronti a immergervi nella bellezza e nei sapori unici di questa terra straordinaria? Il nostro affascinante viaggio ha inizio nella magica Valle dei Templi ad Agrigento, un sito archeologico di inestimabile valore storico. Qui, camminare tra i templi greci splendidamente conservati è un'esperienza veramente avvincente, un autentico salto nel passato. L'atmosfera impregnata di storia aggiunge un fascino unico mentre ci immergiamo nell'antichità, mentre il paesaggio mozzafiato con vista sul mar Mediterraneo conferisce a questo luogo un'aura di sacralità e bellezza senza tempo. La Valle dei Templi è davvero un gioiello che continua a brillare attraverso i secoli, un punto in cui il passato si fonde armoniosamente con il presente. Proseguiamo il nostro viaggio a Taormina, un gioiello tra il Mar Ionio e l'imponente Monte Etna. Il teatro antico, affacciato sul Mar Ionio con lo sfondo del maestoso Etna, regala uno spettacolo unico. Seduti sui suoi gradini millenari, siamo circondati dalla storia che permea l'aria, con antiche mura che narrano di epiche rappresentazioni e storie di un passato lontano. Assaporiamo insieme la magia di Taormina, cullati dalla brezza marina e avvolti da un'aura romantica che avvolge questa città affacciata sul Mediterraneo. Taormina è l'invito irresistibile a esplorare la storia e la bellezza senza tempo. Esploriamo ora la meraviglia della riserva naturale dello Zingaro. dove il mare cristallino si fonde con la bellezza selvaggia della natura. Lungo sentieri panoramici, come il sentiero costiero che porta alla Cala del Luzzo, avrete l'opportunità di immergervi nella tranquillità di questo autentico paradiso naturale. Spiagge nascoste, come la Cala Marinella, e baie appartate, come la Cala Capreria, aggiungono un tocco di magia, rendendo la visita davvero indimenticabile. Scoprite con noi questo angolo di Sicilia, dove l'azzurro del mare e il verde della natura si uniscono in un quadro di serena bellezza. Palermo, la capitale pulsante della Sicilia, incanta con la sua storia ricca e la vitalità contemporanea. Affacciata sul mar Tirreno, la città cattura l'essenza della Sicilia attraverso i suoi monumenti e le strade vivaci. Luoghi iconici come il Teatro Massimo e la Cattedrale di Palermo narrano storie di grandezza artistica e tradizione. I mercati locali, tra cui Ballarò e Vuciria, dipingono un quadro vivido di colori e suoni, offrendo un'immersione autentica nella cultura palermitana. Palermo è una scoperta continua di storia e vitalità, un'esperienza che lascia un'impronta indelebile in chiunque abbia il privilegio di visitarla. Concludiamo il nostro affascinante tour alla Scala dei Turchi, un capolavoro naturale sulle coste siciliane. La sua forma unica, il risultato di un processo geologico straordinario, si è plasmata nel corso dei millenni grazie all'erosione causata da vento e mare. Composta principalmente da calcare e argilla, la marna ha dato vita a scogliere bianche con curve e increspature uniche. Camminare su questa superficie levigata offre un'esperienza tattile e visiva straordinaria, permettendo ai visitatori di ammirare da vicino i dettagli di questa opera d'arte naturale. Durante l'ascesa, le scogliere rivelano la stratificazione che racconta la storia millenaria di questa meraviglia geologica. L'arancino o arancina, prelibatezza siciliana, è un mix di riso, ragù, piselli e formaggio, avvolto in un guscio croccante di pane grattugiato. Croccante fuori e morbido dentro, è un'esplosione di sapori mediterranei. Il cannolo siciliano, icona dolce dell'isola, è un cilindro di pasta fritta che racchiude una cremosa ricotta di pecora, zucchero e scorze d'arancia. Decorato con cioccolato o pistacchi, è un'irresistibile delizia pasticcera. La cassata siciliana, festa per occhi e palato, è una torta ricoperta di ricotta, zucchero, frutta candita e pan di spagna imbevuto di liquore. Decorata con glassa colorata e cioccolato, ogni morso è un connubio di dolcezza e freschezza, un omaggio alla tradizione siciliana. E così, abbiamo esplorato insieme i luoghi più belli e i sapori più autentici della Sicilia. Se avete già visitato questi posti o assaporato questi piatti, condividete le vostre esperienze nei commenti qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale per nuove avventure e lasciate un like se avete apprezzato questo viaggio. Grazie per essere stati con noi oggi e ci vediamo nel prossimo video.